Musica Salve, sono l'ingegnere Andrea Guimino, candidato per la Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle e queste sono le mie personali 5 Stelle. Oggi i politici in campagna elettorale riscoprono gli animali e le buone idee. Noi cittadini da sempre amiamo gli animali e rivendichiamo inascoltati i nostri diritti. Tagliare gli sprechi salvaguardando i servizi. Rilancio della piccola e media impresa. Sviluppo di una reale green economy. Fonte rinnovabili, ciclo dei rifiuti, innovazione ecocompatibile, mobilità sostenibile. La famiglia per noi è un punto centrale. Occorre sostenerla introducendo delle detrazioni fiscali progressive secondo il quoziente familiare. La famiglia per noi è un punto centrale. La famiglia per noi è un punto centrale, Grazie a tutti